Lo so già, lo so già, c'è quello poi che la vorrà buttare sempre in caciare, quindi gli episodi arbitrali, rigore dato al Milan, rigore non dato al Torino, polemiche, in realtà c'è ben poco da aggiungere, io ho un'idea molto chiara, su questo Milan ho un'idea chiara ma non da stasera, da un po' di tempo, questa è una squadra che ha un'idea di calcio ben precisa, ben assorbita da parte di tutti, perché poi o scendono in campo con Rebic, Cialanoglu e Salmekers dietro a Ibra, oppure appunto i vari Oghe, Diaz e Castichieco dietro a Leao, in soldoni, in realtà cambia veramente poco perché chiunque vada in campo sa quello che deve fare. Ecco, sa quello che deve fare e poi dietro a Milan non dimentichiamo, è una squadra che veramente subisce poco, anche stasera veramente poco, sicuramente ci ha messo del suo il Torino, per carità di Dio, perché nel primo tempo non si è praticamente mai affacciato, il primo tempo, traversa di Riccardo Rodriguez, tiro favoloso ma sul calcio da fermo, in azione, la prima occasione del Torino, in azione sto dicendo, in azione, la prima occasione del Torino, che poi dicono a Dazon, dicevano ogni due secondi, eh ma nel Torino il secondo tempo, ci mancherebbe che nel secondo tempo, ci mancava solo che facesse meno di quello visto nel primo, e dicevano gli interconisti, eppure in azione, la prima occasione per il Torino arriva al novantesimo, su tiro deviato tra l'altro, su tiro deviato, quella è la prima occasione, la seconda occasione arriva dopo, quando Frank, il presidente, si butta a terra e salva su Linetti, o chi cavolo era, li verdi forse, forse verdi, stop, veramente poco, veramente poco, veramente poco Torino, qualche progressione di Singo, ma poco, e qualche giocata come al solito del Gallo Belotti, poco, l'ho detto prima, l'ho detto prima, il Milan ha 40 punti, il Milan che è una squadra che sa quello che deve fare quando scende il campo, ormai è una squadra che ha assorbito tutto, ha assorbito tutto, e gioca bene, ripeto, gioca bene, anche il gol, anche il gol stesso, il primo, progressione di Theo, che salta Singo, crei superiorità numerica, e i gol nascono sempre, ogni gol nasce sempre da un giocatore che, in qualche modo, supera, riesce in qualche modo a bucare gli schemi avversari, e Theo in questo è sempre magnifico, ti crei con facilità superiorità numerica, palla a Diaz, anche lui, di prima, facile, triangolazione, geometrie, ecco, geometrie, quando dico che il Milan ha assorbito appieno tutto, vuol dire che il Milan conosce le geometrie in campo, cioè, è una squadra geometrica, la squadra geometrica, cioè, il gol di Diaz, palla per il di prima, bella, leao, facile, facile, arrivi in porta, tre tocchi, arrivi in porta, non c'è bisogno di, eh, c'è bisogno di un giocatore che ti crea superiorità numerica, e poi se, eh, se conosci le geometrie in campo, tre tocchi, in porta, gol, facile, poi, è vero, la partita si semplifica, si semplifica ancora di più, con il rigore assegnato al, al Milan, lì l'è finita, praticamente è finita la gara, lì è sfiorato il terzo gol, comunque sì, per completezza, i rigori, già sapete come la penso io, per i rigori è molto semplice, addirittura sul secondo, partendo dal secondo, no, stava lì a vedere, no, ma, ma forse bisogna vedere se tonali, eh, comunque di intraccio, perché stava tirando, ma che stava tirando, cioè, sento delle dinamiche, perché poi ci sono, perché poi, in molti sintomi, incattiviscono, perché si dicono delle boiate, proprio già in telecronaca, no, ma sai, tonali, ma che tonali, tonali stava lì, stava lì, era in traiettoria, quello gli tira un calcio, come mai, come poteva essere minimamente fallo di tonali, assurdo, puoi provare a spiegare, cioè, e l'arbitro, in tutto ciò, aveva la visuale sgomba, quindi l'arbitro ha visto, ha visto, ha visto tutto, e aveva dato comunque rigore, cioè, è chiaro, cioè, alcune volte, per farvi capire, che gli arbitri veramente vanno così, vanno così, a sensazione, e la stessa cosa lo dico per il rigore al Milan, per me, per me il rigore deve essere una cosa seria, un Belotti che rimane lì, fermo, allarga il piede, Diaz gli frana addosso, perché Diaz, in modo molto tecnico e furbesco, no, nasconde la palla e va lui addosso a Belotti, rigore, per me non è rigore, poi qualcuno dirà il rigore è nettissimo, qualcuno dirà il rigore è dubbio, qualcuno dirà che è inesistente, non cambia nulla, ribadisco, non cambia nulla, perché il Milan l'ha vinta sul campo, la gara, giocando a calcio, giocando a calcio e dominando sul Torino, cambia poco, però, ripeto, stare lì a sentire quelli che provano a dire, a fare, sai, no, ma là, quello che, ma che cosa, ma c'è poco da spiegare, c'è poco, c'è poco da vedere, poi se non si possono proprio toccare i giocatori, facciamo così, diciamo che i giocatori non si possono toccare il minimo contatto, no, il minimo contatto e il rigore, a posto, allora lì non ci saranno mai dubbi, altrimenti il dubbio è lecito, ma non nel secondo caso, ribadisco, quando quello calcio a tonali e si provava a pensare, ma sai, forse bisogna vedere se ci arriva prima perché quello è dietro, ma che è dietro? Quello sta camminando e gli arriva un calcio come poteva, come poteva fare rigore, cioè, assurdo, però, vabbè, ribadisco ancora una volta, la partita è stata molto, molto chiara, molto, molto, molto lineare, Torino ha provato nel secondo tempo, ripeto, qualcuno lo ha detto, nel secondo tempo il Torino è migliorato cambiando, Verdi, trequartista, mettendo le punte, mettendo appunto Zazio, ma io nella sostanza non ho visto grandi occasioni, ecco, se vogliamo dirla tutta, quindi, quindi porta a casa un'altra vittoria, Milan continua la sua scia, Milan che ribadiamo non ha demeritato nemmeno contro la Juventus, finché aveva Benzini in corpo, se l'ha giocata, Milan che ripropone, per esempio, vedi anche lo stesso Calabria che va a giocare in mediana e sa fare anche quel ruolo bene, le cose funzionano, funzionano bene e c'è poco, c'è poco da, c'è poco da aggiungere, dai, nella sostanza di cui c'è poco da aggiungere. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate se vi va, perché no? Iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, da Nespio.